Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta scioppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video. Scusa, non puoi revocare... sta roba? Porco! Vabbè, 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 cosa posso fare a pensarmi? Cosa posso fare? Sì, c'è il pombo a questo. Vado sempre sì. È giusto, è... Non sta. Vieni. Vestre, vabbè, prima cosa sì. Così come se deve rilasciare al dottomfre. Vieni. c'è altra gente vieni sopra, sopra il tetto non è fatta l'entrave blu dai che sei più l'ho mia nonna, mia nonna è l'ho c'ha che cavolo c'ha sto l'ho l'altro è l'ho ma adesso dove vai, mezzagrano? no, no, è qua, da me perché se sei lì per sopra mi devo fare hai le bendo o te le do io ho un medikit, lo skull trooper si sta facendo la cosa cioè lo staranno arrestando la vedi da qui quanto gente c'è sì, ti prego, nella lobby blu, te ne mi ango vabbè, guarda che ok poi beh ancora avete rotto eh uh, pasta e ciò eh, ma è nel grano sicuro dov'è? è nel grano è nel grano, vero? è nel grano, vero? quanto? sì da quale lato? lì sì, 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 sì ah, dusch che fuis ancora senza shield questi push grandi sono pericolosi comunque sì qua è tutto da l'utà se vuoi venire non sono ampia in questa cassa la ve la dice sì provati per terra sei ora che mi sta guardando? ti ho s*****o la zia c'è un altro team che sta arrivando siamo l'assili rosso ok, è both palesemente almeno spassa è giusto, è termini cosa c'è? sei mini va, vieni dietro ok, grazie e ti riporti pure va, andiamo, va non è un bot è un player ma sarà sicuramente un bot è il cecchino ergo devo stare attento al servizio di tank 22 blu hanno doppio sniper io li push voglio levarmi dai ruot 28, 28 blu, vero? sì si è attaccato a te ah tu l'urto ok, grazie ok, grazie ok, grazie una via una allora quanti quanti c'è uno close una merda c'è uno qua sotto infatti non ho più una da solo però sei ho pure finito di metteria fatti con calma ma tu devi vedere che cavolo deve fare uno che gioca oddio mio 35 per uno sto pushando a live la distanza e c'è cagatelo di nuovo fabio fatti fammi piga dai che ne facciamo 20 ultimo team Cosa è blombo? Morto uno morto uno È l'ultimo Da sei Vai a mangiare Una cosa buona La fava La bella fava GG GG Questa c'è pure la Recon La Recon Eccola là con la canotta bianca È il caffè lo da San Pai Bianco? Sì Che schifo Schini, merda Sono incartato Per dario è oggi Grazie a tutti